Grazie a tutti. Speriamo di sì. Ci sono stati diversi cambiamenti, diverse rivoluzioni industriali. Quella che però assistiamo in questo momento è un qualche cosa, a nostro parere, diverso. Ci sono diversi punti di gravità per le nostre aziende e per le nostre imprese. Il primo è il prodotto e poi il baricentro si è spostato verso le persone. Citavamo prima per esempio Adriano Livetti che ha cominciato a considerare la fabbrica non più come un qualcosa che doveva fare profitto, ma viceversa come un qualcosa che deve aprirsi, deve distribuire ricchezza, cultura, servizi e democrazia. C'è stata un'evoluzione forte del contesto economico che ha pesato sulle nostre imprese. C'è stata inizialmente, lo sappiamo tutti, la globalizzazione, una grande panacea per il mercato, una grande opportunità. Due anni fa, due anni fa, il covid, un problema globale. E quindi le risposte cambiano. C'è una percezione da parte degli imprenditori diversa. Seguivo per esempio durante un intervento propedeutico a Futura un filosofo e mi sono chiesto perché si parla di filosofia per affrontare problemi di sostenibilità. Perché diceva che la percezione del limite è cambiata. Mentre prima c'era un problema, c'era un incendio in Sicilia, un'esondazione in Calabria e pensavamo che fosse un problema solo italiano, adesso cominciamo a capire che il problema non è più regionale, ma è globale. È cambiato completamente. Questo impatta sulla consapevolezza che hanno i nostri imprenditori, le nostre imprese. Quindi anche le PMI cominciano a capire che quando fanno qualcosa, questo qualcosa non è confinato, ma ha degli effetti che si concatenano e sono quindi molto importanti. Aggiungo quindi un altro concetto che secondo me è basilare e che si concatena con quello che dovrebbe fare la cittadella dell'innovazione sostenibile. è il concetto di compressione. Cosa significa? Tanti temi, tante problematiche da risolvere in un orizzonte temporale troppo ristretto, soprattutto per la reattività di tutte quelle imprese che banalmente hanno meno di 50 dipendenti, quindi meno strutturata. Quindi noi auspichiamo che la cittadella dell'innovazione sia un fantastico contenitore inclusivo, trasversale, dove, come dicevo prima, ci possano essere tante innovazioni proprio per anche le nostre aziende del territorio. Grazie.